Mentre rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive sono 45, oscillante la curva dei contagi e si conta ancora un decesso. Sono 248 i positivi riscontrati in tutta la provincia, dei quali 64 a Caltanissetta, 56 a Gela, gli altri pazienti suddivisi per tutti i paesi della provincia. Per ciò che riguarda Caltanissetta sono 675 i positivi in quarantena domiciliare, sono 5 i positivi ricoverati in malattie infettive. Invece per ciò che riguarda Gela sono 779 i positivi in quarantena domiciliare, sono 12 i positivi ricoverati in malattie infettive. In tutto sono 3.016, un numero che comunque nonostante tutto è aumentato, i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. Grazie. Grazie.